Le storie più simpatiche che ho raccolto queste settimane ce ne sarebbero tante da raccontare, sicuramente in condominio il coronavirus ormai è diventato un patema, sono tutti ossessionati, preoccupati con richieste talvolta assurde da sanificazioni ogni sei ore dell'ascensore a disinfettazioni ogni due dell'atrio d'ingresso, delle scale. Qual è oggi la quotidianità di un mestiere come il tuo dato ad esempio anche l'alto numero di liti che viene registrato anche da parte delle forze dell'ordine, liti all'interno dei condomini proprio per questa quarantena forzata a cui siamo costretti tutti? Diciamo che il nostro mestiere è un mestiere un po' particolare perché fondamentalmente la realtà del condominio è molto paragonabile a quella che può essere una realtà di un piccolo paese, per cui tutto quello che stiamo riscontrando ad oggi nella gestione dei paesi, delle città, delle regioni, le problematiche che stanno riscontrando i nostri presidenti, i nostri sindaci sono poi fondamentalmente le stesse problematiche che noi viviamo quotidianamente. Sicuramente ci vuole in questo momento tantissima, veramente tantissima pazienza perché le liti in condominio sono esplose, il nostro stile di vita godereccio e libertino forse non ha influito in maniera positiva sul fatto che ci abbiano obbligato a rimanere chiusi in casa, nonostante abbia notato che tantissime persone hanno dimostrato di avere degli atteggiamenti nei confronti dei vicini del prossimo che sono stati per me recepiti in maniera veramente positiva e quindi ci sono i pro e i contro diciamo. Come vedi il futuro dopo tutto questo? Per quanto ci riguarda credo che nel nostro settore sicuramente gli sviluppi saranno molto importanti e ci sarà un balzo in avanti che forse risultava anche necessario. Siamo alla porta, stiamo tutti attendendo di capire come si svilupperanno le situazioni in futuro. C'è chi dice che d'ora in avanti le assemblee di condominio potranno essere svolte soltanto tramite sistemi di videoconference, on-conference call. Quello che ci ha sempre contraddistinto come popolo e come persone è l'atteggiamento umano che noi abbiamo e la necessità di contatto, la necessità di vivere le persone non tramite una telefonata piuttosto che tramite una videoconference ma fisicamente. Spero che questo rimanga sempre perché forse è anche uno degli aspetti del mio lavoro che più preferisco.